Francesco Macri, Estra, allora, come si vive in questo momento e che tipo di messaggio si può dare da parte di un'azienda che offre un servizio essenziale? Estra svolge un servizio di pubblica autorità e quindi garantiamo la continuità del servizio a tutti i cittadini. Per quanto ci riguarda, per i nostri dipendenti, abbiamo adottato prima ancora dei decreti tutte le misure coerenti con gli stessi, abbiamo ridotto al minimo la presenza non essenziale alla continuità del servizio, favorito al massimo lo smart working, il lavoro cosiddetto agile e presidiamo essenzialmente i settori di pronto intervento e quelli che proprio servono per garantire i servizi. In un primo momento abbiamo chiuso soltanto le sedi al pubblico, limitato gli accessi a quelli indispensabili, impedito anche ai consulenti esterni di intervenire. Io, prima persona, mi sono dato da fare anche per garantire all'inizio dell'emergenza un'adeguata distanza tra tutti i nostri dipendenti, sparpagliandoli anche in più ambienti. Oggi praticamente siamo al 20% del personale, ripeto, principalmente legati ai settori operativi, quelli essenziali. Per il resto abbiamo proceduto con tutta una serie di interventi di sanificazione, di maggiori pulizie e di dotazione dei strumenti di protezione individuale, soprattutto per quelli che sono in strada nel campo. La domanda che si farebbe il cittadino oggi è come facciamo con le bollette se non le possiamo pagare, che tipo di strumenti di tutele il governo sta pensando di mettere in campo? Se potessimo vorremmo aiutare tutti i soggetti in difficoltà, però bisogna anche essere consapevoli che se un'azienda come Estra o le aziende importanti come Estra vanno in crisi dal punto di vista economico, poi si mette a repentaglio anche il servizio essenziale. Quindi dovevamo necessariamente essere coerenti con le decisioni del governo e con le autorità competenti. In particolare Arera è intervenuta pochi giorni fa garantendo la sospensione dei distacchi. Questa è stata la misura scelta nell'immediato, cioè chiunque non sia in grado di pagare una bolletta non gli viene staccata nella luce e nel gas. Questa è una prima misura di protezione che è a carico dell'azienda. Ci auguriamo che nelle prossime ore facciano anche altri provvedimenti, ma lo Stato non può dimenticarsi che anche le aziende come Estra vanno protette non solo per i propri dipendenti ma soprattutto per garantire il servizio. Estra è un'azienda che compra energia e la rivende, non è che arriva dal cielo. Quindi dobbiamo essere tutti consapevoli che la filiera necessaria a garantire la sussistenza della vita delle persone e della vivibilità delle persone deve essere garantita. In questo sentiamo una grande responsabilità. Poi per parte sua Estra avrà tutta la forza per sostenere e per contribuire a sostenere la società aretina e in generale la comunità dei nostri clienti.